5 successi in 6 partite, a Perugia lo stop, la rincorsa della Nocerina si è bloccata sul più bello. Ma ha ragione mister Gaetano Auteri, il campionato è così equilibrato, pur mancando ormai poche partite al termine della regular season, che è ancora ipotizzabile uno scossone in vetta. Prendete il prossimo turno, Latina-Frosinone per il derby, Avellino a Perugia, Nocerina in casa col Catanzaro. La forbice potrebbe riaccorciarsi tra le battistrada e le inseguitrici. Ma l'analisi dell'alta classifica va fatta prendendo spunto dal calendario delle prime quattro. Il Latina ha compiti poco agevoli prossimamente, dopo Frosinone dovrà vedersela in casa con l'Andria, poi andare a Perugia, ospitare il Prato e giocare a Benevento e quindi in casa con l'Avellino. Se lasciamo da parte le ultime tre partite, quelle dello sprint finale, ci accorgiamo che i lupi irpini hanno dalla loro un calendario potenzialmente simile a quello dei pontini. Perugia fuori, ma poi Viareggio in casa, Sorrento in esterna, derby casalingo con la Nocerina, quindi la doppia fuori, Gubbio-Latina. Anche la Nocerina, terza forza in coabitazione col Perugia, avrà una doppia esterna. Il calmino post-pausa prevede Catanzaro al San Francesco, Derbico la Paganese, Pisa in casa, Avellino e Viareggio fuori e Gubbio tra le mura amiche. A differenza di Latina e Avellino, però, la Nocerina è squadra che fa meno calcoli, gioca per vincere sempre, rischiando però di perdere più delle due prime della classe. Concludiamo questo discorso con il Perugia, padrone per davvero del suo destino promozione per migliorare quantomeno il post-play-off. Giocherà infatti tutti gli scontri diretti in casa al Curi. Già battuta la Nocerina, avrà Lavellino, Carrarese fuori, ancora il Latina in casa, in esterna Catanzaro e Frosinone e poi davanti al suo pubblico il Sorrento prima del rush conclusivo. Difficile stilare percentuali, anche perché molto dipenderà anche dal recupero Paganese-Latina. Se i Nerazzurri dovessero incrementare il vantaggio attraverso questa partita in questione, allora per la concorrenza sarà durissimo il recuperare punti in graduatoria. Altrimenti il campionato rimarrà apertissimo anche per il primo posto fino alla fine.